Il battito perché nasce dal cuore, come potete dire dal nostro simbolino, il cuore è tutto per la danza. Partendo dal momento, ogni battito che abbiamo noi nel cuore è così, è l'energia che tramitiamo ogni volta che insegniamo l'ultra viene. Quest'anno parteciperò per la prima volta insieme ad Amerigo, come potete vedere qui, Unione Latina Europea, l'opportunità giusta per poter far sì che diventi un grande evento per tutti quanti noi. Noi portiamo più che altro un sonriso, una felicità sempre ai posti, trattiamo diciamo di che la gente sonrida, si diverta. Unione Latina Europea 2016. Vi aspetto lì, ragazzi non mancate, ci sarà solo da divertirsi. Salle ma mi muove il seguro, che stanno cec'ho venita lo seguro, che ci sono sempre a sapere la pausa e muovere, 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 muovere. Unione Latina, avril, con Amerigo Sargese e il battito presente.